Eccoci a bordo campo con mister Alessandro Giacobbe, allenatore della San Margheritese, una vittoria al Cardiopalma non per il minutaggio ma per la partita che è stata, ricca di ribaltamenti di fronte, le chiedo un suo parere sulla partita che ha visto quest'oggi. Allora intanto oggi abbiamo affrontato una gran bella squadra organizzata con idee, con giocatori importanti e con una gran bella tenuta atletica, quindi già di per sé questo ha fatto sì che noi abbiamo dovuto mettere in campo una prestazione importante. Per noi è stata una vittoria fondamentale in quanto già a tre infortunati che avevamo se ne sono aggiunti negli ultimi due giorni altri tre, quindi affrontare questa partita con sei giocatori in meno indubbiamente è stata dura. È stata dura anche nella gestione di alcuni ruoli, di cambi in alcuni ruoli che non avevamo, quindi essere riusciti a portare a casa i tre punti comunque creando abbastanza e subendo due gol su due situazioni dove un po' di fortuna da parte loro noi sicuramente dobbiamo fare meglio è decisamente importante.